La finale è molto difficile, sono partito undicesimo a causa di un contatto in prefinale. In finale sono riuscito subito a sfilare quinto, sono rimasto quinto per tutto il resto della gara, gli ultimi giri, quelli davanti ho fatto battaglia e l'ultima curva sono riuscito a vincere. Stavo esultando come non so cosa. Ho riuscito a rimontare dall'ultima posizione fino all'ottavo e in finale da ottavo sono stato primo perso la fine gara, però ho avuto fortuna perché ci sono preso con un concorrente e ho perso una posizione all'ultimo giro. Un buon risultato, sono molto soddisfatto, molto contento. Tutto a posto però molto faticoso, ho fatto 20 giri, poi con la junior era leggermente più morbido stare là davanti perché poi con i freni davanti arrivano parecchie botte e contatti di gara. Però con un po' di fortuna, un po' di astuzia, soprattutto usando la traiettoria esterna nell'ultimo giro sono riuscito a prendere una posizione e niente, è andata così.